Una giornata di ricordo e testimonianza dedicata a Mario Frasca e il giovane militare morto in Afghanistan il 23 settembre 2011 durante una missione di pace. A ricordarlo la scuola Zingarelli con gli ex compagni di classe di Mario, l'associazione Mario Frasca creata dalla famiglia e del comune come omaggio l'intitolazione della sala multimediale. Una giornata di ricordo e testimonianza, un omaggio al caporal maggiore Mario Frasca, il militare morto in Afghanistan nel 2011 durante una missione di pace come riconoscimento e gratitudine ad un giovane che ha dedicato la propria vita perdendola per la sua patria. A ricordarlo i suoi ex compagni di classe della scuola Zingarelli di Ortanova con la direzione didattica, l'associazione Mario Frasca voluta dalla famiglia del soldato e il patrocinio del comune in una manifestazione ricca di emozioni e ricordi da mantenere sempre vivi. Mi auguro l'auspicio che posso fare che ogni volta i bambini ricorderanno il sacrificio di mio fratello Mario ma anche di tutti quanti i 52 eroi caduti per la patria. Che viviamo ogni giorno anche la storia di oggi, l'Afghanistan è un esempio di territorio ma poi ce ne sono altri, oggi si vengono racchiusi in un'unica parola che si chiama missione di pace e questo è molto importante per i bimbi perché vivono giorno dopo giorno, la storia letta non è come la storia che si vive grazie anche a queste manifestazioni. Una giornata pensata come una pagina di storia ed educazione civica, una lezione di vita per i piccoli alunni e gli insegnanti della Zingarelli che hanno deciso di intitolare a Mario il laboratorio multimediale come omaggio per il suo sacrificio così come conferma la dirigente scolastica Margherita Palma. Oggi ci sarà l'intitolazione di un laboratorio alla memoria del caporal maggiore ed è un avvenimento da non sottovalutare ed è molto importante perché segna un legame con le generazioni future. Ad omaggiare Mario anche il sindaco di Orta Nova Iaia Calvio ricordando i più piccoli valori della vita che sempre più spesso però vengono dimenticati. Credo che sia importantissimo e spero che valga per loro come esempio, che li distolga da tanti falsi miti e tanti falsi esempi che purtroppo si vedono continuamente sfidare sotto gli occhi.